Ristoranti da Mauriglio Nel centro storico di Lecce Ha due pasti da casa vostra dovunque abitate Specialità a crudo Carne cruda Pasta cruda Pesce crudo Riso e risotti crudi E vabbè non tengo la cucina Non tengo la cucina E' un problema Ma io non faccio Se faccio ristorazione Tieni pure la cucina E' indispensabile Io non lo so Tagliate le ali agli imprenditori Che vogliono volare Che hanno le idee Mi sono stancato Non voglio fare più niente Non voglio fare più niente Che voglio fare più niente E' un problema Che voglio fare più niente